Nel caso in cui uno entri in un nostro parcheggio di struttura, cosa succede? Prende il biglietto, si parcheggia, poi non passa più dalla cassa, semplicemente scannerizza il barcode. Si chiama EasyPad e sta per Padova Facile, in questo caso ad essere più facile è il parcheggio per chi arriva in città. Questo è lo scopo della nuova applicazione per smartphone messa a punto da PS Holding per trovare in modo rapido un parcheggio. Con un clic si potrà pagare la sosta oppure cercare il parcheggio più vicino al luogo da raggiungere e conoscere nella disponibilità di posti. Il sistema monitora in tempo reale la sosta attraverso sensori ottici ed elettromagnetici che inviano informazioni ad una regia centrale di APS, rilevando nel contempo anche se il parcheggio è scaduto o meno. L'app, come dicevo, è il primo appuntamento, ma poi sarà seguito anche da altri prodotti e altre attività, come per esempio pannelli e messaggio variabile ed altre novità che di qui all'estate sicuramente saranno realizzate. Entro l'estate verranno infatti sostituiti i parcometri con quelli abilitati con il Bancomat. Il 30% del traffico padovano è dato da automobilisti che girano a vuoto nella ricerca di un parcheggio. Con la nuova app invece potranno andare a colpo sicuro. I parcheggi ci sono e gli strumenti oggi ci consentono di riuscire a trovarli, di essere consapevoli che la possibilità di parcheggiare c'è e oggi a me fa piacere presentare questo nuovo strumento a servizio di coloro che devono parcheggiare, ma soprattutto anche a servizio della città per rendere più snello e più facile il parcheggio. Questo elimina parte del traffico di prossimità. EasyPad a breve verrà implementata con un servizio di monitoraggio per agevolare anche il car sharing. Grazie a tutti.